1.12, 1.10, buonasera, benvenuti al nostro telegiornale edizione della notte, cominciamo come sempre in questi ultimi giorni dal Medio Oriente, dalla crisi tra Libano e Israele, l'amministrazione americana, riporta la CNN, non ha avuto da Israele rassicurazioni sugli attacchi che intende portare di nuovo sul territorio iraniano e sicuramente non ha dato rassicurazione sulla volontà di non attaccare siti nucleari, questa è una notizia che ha riportato la CNN mentre ancora Biden stava cercando di dissuadere Israele dall'attaccare impianti petroliferi, questo mentre l'esercito israeliano ha compiuto un altro raid a Gaza colpendo di nuovo una scuola che ospitava sfollati ma dove secondo Israele c'erano anche dei capi di Hamas, nel frattempo gli Stati Uniti hanno stanziato un pacchetto di 157 milioni di aiuti umanitari per i libanesi che sono in fuga, soprattutto per tutti quei siriani che dal 2011 avevano lasciato il loro paese e si erano rifugiati in Siria che adesso stanno tornando dall'altra parte. Se fossi nei loro panni penserei ad alternative ai giacimenti petroliferi, il messaggio a Israele arriva forte e chiaro in serata dal presidente statunitense Biden che poi conferma come si stia ancora discutendo delle modalità della risposta dello Stato ebraico all'attacco iraniano, risposta che riporta Canale 12, il gabinetto di sicurezza stabilito ci sarà e sarà forte ma appunto in coordinamento con Washington che comunque secondo la CNN non avrebbe ricevuto garanzie sul fatto che dai possibili bersagli siano esclusi gli impianti nucleari. Intanto, nel pomeriggio, gli Stati Uniti hanno colpito 15 obiettivi nelle aree dello Yemen controllate dagli UTI. Questo nel giorno in cui, a Teheran, per la prima volta dall'uccisione di Soleimani ad opera degli Stati Uniti, l'Ayatollah Khomeini ha condotto la preghiera del venerdì nell'ambito della quale ha commemorato il leader di Hezbollah, Hassan Nasdrala, ucciso una settimana fa da un raid israeliano su Beirut e definito un paladino degli oppressi. Con un fucile al suo fianco, la Guida Suprema ha chiamato a raccolta il mondo musulmano, invitandolo a superare le divisioni interne e a unirsi contro il nemico comune, Israele. Se necessario, colpiremo ancora la Palestina occupata, ha affermato, definendo il 7 ottobre una azione legittima. Intanto, in Libano, dove Hezbollah oggi ha lanciato 222 razzi verso il nord di Israele, è giunto il ministro degli esteri iraniano, forse anche per partecipare ai funerali di Nasrallah, sui quali però, riporta la CNN, nulla sarebbe stato ancora deciso. Il probabile successore di Nasrallah, Hashem Safieddin, secondo quanto riportato dai media israeliani che citano fonti degli apparati di sicurezza, sarebbe stato ucciso la notte scorsa in uno dei pesantissimi raid sui soborghi meridionali di Beirut che proseguono quasi incessantemente. Così come incessantemente proseguono i bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza e ormai anche i blitz in Cisgiordania. Oggi si sono svolti a Tulcarem i funerali delle vittime dell'attacco di ieri, 18, tra loro anche due fratellini di 7 e 8 anni. Un attacco che aveva come obiettivo un comandante di Hamas, la cui morte è stata confermata dal gruppo fondamentalista, ma che per l'elevato numero di vittime civili ha incontrato la condanna della comunità internazionale con la Germania che lo ha definito scioccante. E domani a Roma una manifestazione in sostegno della Palestina, una manifestazione che non è stata autorizzata. Ci saranno probabilmente almeno 30.000 persone in una zona della città dove ci saranno anche numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine. Controlli ai caselli, nelle stazioni ferroviarie, una serie di anelli e sbarramenti attorno alla zona di Ostienze. A Roma il luogo scelto per la manifestazione non autorizzata di domani. Alla vigilia del 7 ottobre, primo anniversario dell'attacco di Hamas in Israele, c'è grande preoccupazione per il corto vietato dalla questura, ma che, secondo gli organizzatori, richiamerà almeno 30.000 persone. Il pericolo è quello delle infiltrazioni delle frange di violenti che potrebbero cercare lo scontro con gli oltre 1.500 agenti schierati a protezione della piazza. La manifestazione di domani è illegale, ma sarà gestita con equilibrio dalle nostre forze di polizia, detto il ministro dell'interno Piante Dosi, che ha ribadito la propria fiducia agli agenti. All'appuntamento, previsto per le 14, ci sarà l'Unione Arabo-Palestinese e i giovani palestinesi, ma nelle ultime ore, grazie anche ai Tam Tam Social, arrivano adesioni da parte di centri sociali e collettivi universitari, confermato invece il rifiuto di partecipare della comunità palestinese di Roma e del Lazio, che dopo il no della questura ha chiesto e ottenuto di manifestare il prossimo sabato, il 12 di ottobre, ma il divieto alla manifestazione divide anche la politica. In piazza ci sarà la rifondazione comunista che non aderirà al corteo, ma sarà presente il segno di protesta e contro il no al corteo. Stasera c'è stata un'altra dimostrazione di dissenso. Davanti all'Ara Pacis c'è stata infatti un'azione simbolica dei militanti del Movimento Indipendenza, guidato da Gianni Alemanno. Proprio ora arriva la notizia di un nuovo rei di israeliano alla periferia sud di Beirut, quella zona della capitale libanese che è abitata in maggioranza da Esbolla, da una popolazione fedele a Esbolla. L'ordine di evacuazione era stato dato precedentemente al raid. Adesso veniamo alle questioni economiche che ci riguardano a proposito delle dichiarazioni fatte ieri dal Ministro dell'Economia Giorgetti su sacrifici che ci aspettano e che sarebbero previste nella prossima manovra. Contro le nuove tasse si sono schierati i rappresentanti dello stesso governo di cui fa parte Giorgetti. Il dibattito politico si sviluppa in vista della manovra finanziaria, a far discutere ancora la nuova misura che, come chiede il Ministro dell'Economia, non avrà il profilo di una tassa sugli extraprofitti, ma sarà un prelievo fiscale che colpirà, come spiega Giorgetti, chi ha beneficiato di condizioni di mercato favorevoli, facendo anche un riferimento al settore della difesa. Ma molto probabilmente saranno comprese anche banche e assicurazioni. Comunque, anche se il provvedimento non ha ancora visto la luce e molti i suoi aspetti restano incerti, la polemica tra gli schieramenti è già attiva. Dalla maggioranza minimizzano, le parole di Giorgetti sono state fraintese. La più netta è Forza Italia, Tajani assicura finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani. Stesso concetto ribadito anche da Salvini, non è questo il governo che aumenterà le tasse. A Salvini piacerebbe un contributo non obbligatorio a carico delle banche. Per Foti, quella sulla tassa per gli extraprofitti è una fake news. Non è così per le opposizioni. Misiani, PD, attacca. Il ministro Giorgetti ha una concessione tutta sua della progressività fiscale a correnti alternata a seconda della convenienza del momento. Anche AWS dice no a sacrifici per tutti e chiede di redistribuire la ricchezza, con Bonelli che punta a tassare le grandi fortune. Eli Schlein poi torna sulla nuova rimodulazione delle accise sul gasolio e dice Giorgia Meloni sta imponendo alle famiglie italiane una nuova tassa di 70 euro. E Conte, noi siamo nati per combattere gli affaristi e per contrastare chi reintroduce vitalizia e aumenta le tasse come le accise. È stato indetto per domani uno sciopero nazionale del settore del trasporto da parte del sindacato Orsa TPL. Diritti, sicurezza e salario adeguato sono le rivendicazioni e l'astenzione dal lavoro per chi opera su bus, tram e metro e aderirà allo sciopero è prevista dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio. A Milano lo sciopero è revocato da rappresentanti sindacali che hanno ricevuto un provvedimento di precettazione da parte del prefetto per motivi di ordine pubblico. E adesso una vicenda che ricorderete come Pandoro Gate, quella che ebbe come protagonista Chiara Ferragni, una vicenda legata a sponsorizzazioni e a beneficenza per quello che riguardava sia dei pandori che delle uova di cioccolato, ebbene chiuse le inchieste. Chiara Ferragni è indagata insieme al suo ex socio e dirigenti della Dolci Preziosi e di Balocco per truffa aggravata. L'ipotesi è che chi ha comprato i pandori Balocco, targati Ferragni, lo abbia fatto convinto di fare beneficenza ed è stato ingannato. Truffa aggravata è l'accusa per l'imprenditrice digitale, secondo la procura di Milano, che ha chiuso le indagini. Insieme a lei sono indagati anche il suo ex baraccio destro, Fabio D'Amato, uscito dai progetti di Ferragni dopo il Pandoro Gate, Alessandra Balocco, capo dell'azienda che produce i pandori, e Francesco Cannillo, AD di Dolci Preziosi. Dalle vendite del Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua per la procura si sarebbe ricavato un ingiusto profitto di 2 milioni 175 mila euro. I ricavi del Pandoro proprio in Christmas avrebbero dovuto sostenere l'ospedale Regina Margherita di Torino, ma la beneficenza si concretizzò solo in un assegno di 50 mila euro fatto da Balocco. Chiara Ferragni fu sanzionata per pubblicità ingannevole dall'antitrust, cui poi seguirono le sue scuse pubbliche, e una sua donazione per un milione di euro che poi fu incassata dall'ospedale. Chiara Ferragni non ha commesso alcun reato. I profili controversi sono già stati affrontati risolti davanti all'autorità garante della comunicazione del mercato, sostengono i legali dell'imprenditrice, pronti a un confronto con la pubblica accusa. Entro 20 giorni la Ferragni deciderà se presentare una memoria difensiva o farsi interrogare. In cento anni di storia Balocco ha sempre rispettato i consumatori. Dimostreremo la correttezza del nostro operato, fa sapere l'azienda. Parliamo ora di calcio. Settima giornata di Serie A. Il Napoli batte 3-1 il Como e si porta in classifica a più 4 sulla Juventus. E poi in serata, importante vittoria in rimonta del Verona che batte per 2-1 il Venezia. Il Napoli stringe i denti e riesce a piegare il Como, soltanto dopo quasi un'ora di gioco. Gara che prende inizialmente una piega favorevole agli azzurri con la rete dello scolzese McTominay dopo meno di mezzo minuto. Ad ispirare l'ex Manchester United del solito Lukaku che confeziona l'assist ideale. Alla mezz'ora i lariani sfiorano nel pareggio con il palo dell'argentino Nico Pass, bel sinistro dalla distanza. La prima frazione si chiude con l'1-1, siglato da Strefezza. Il suo destro, suo appoggio di Perrone, non è intercettato da Buongiorno e beffa il portiere Caprile. Nella ripresa Napoli più convinto e di nuovo in vantaggio con il rigore di Lukaku, concesso per un ingenuo fallo di Sergi Roberto Solivera. Nel tavellino del gigante belga c'è pure il preciso assist per David Neresh nell'azione in verticale che porta al 3-1 per i partenopei. Finisce 2-1 il derby tra Verona e Venezia. Meno di due minuti ed il match viene indirizzato verso gli ospiti. Sul corner di Rigonussi-Caviglia poca reattività della difesa dell'Ellas e colpo di testa in solitudine per Oristanio. I padroni di casa rispondono subito col destro al volo di Tensted servito in area da Moschera, terza rete del torneo per il danese. E nel finale un errore del portiere Joronen provoca il raddoppio giallo-blu sul colpo di testa di Castanos su angolo di Lasovic. Domani altri tre anticipi, Udinese-Lecce alle 15, Atalanta-Genua alle 18 e Inter-Torino alle 20.45 con i nerazzurri chiamati a replicare allo scatto del Napoli. Domenica ad ora di pranzo il match contro il Cagliari della Juventus che presto potrebbe di nuovo accogliere Paul Pogba. La squalifica per doping del francese è stata ridotta da 4 anni e 18 mesi dal Tribunale d'Appello dello Sport. Se ne è andata a 89 anni, Lea Pericoli, grande tennista, la più elegante delle nostre tenniste e soprattutto dopo aver smesso con l'attività agonistica volto importante di questa rete come telecronista, le ricordo. Icona di stile, signora del tennis, divina della racchetta. Lea Pericoli è stata anche tutto questo, con la sua eleganza e il suo savoir-faire, immagine di un'Italia che agli albori del boom economico scopriva allo stesso tempo il vezzo del pizzo bianco sulla terra rossa e la forza di una giocatrice per 14 anni numero uno nazionale, 27 titoli tricolori, quattro volte agli ottavi del Roland Garros, tre volte a Wimbledon. Ma al di là delle definizioni un po' banalizzanti, c'è un aggettivo che definisce al meglio Lea Pericoli, antesignana. Antesignana sul campo, se non nel tennis di certo nello stile, con quella minigonna che proprio in quel pugno di anni rivoluzionava il mondo. E antesignana Lea Pericoli è stata anche quando, uscita dal campo di gioco, capì che il suo ruolo non poteva limitarsi a quello di ospite d'onore o madrina di eventi. Si inventò in un mondo praticato esclusivamente da uomini, telecronista, garbata al punto giusto, competente punto dopo punto, narratrice e testimone di un tennis che cambiava faccia. Ma antesignana Lea Pericoli è stata anche dal punto di vista più intimo, quando si trovò a fronteggiare un carcinoma all'utero nel 73 e poi un cancro al seno. Entrambi superati, sfidando i pregiudizi, mettendoci faccia, cuore e corpo, modello per tante donne che in quegli anni vivevano con vergogna la loro condizione. Chi cerca di diventare un campione combatte una guerra continua, ha detto una volta Lea Pericoli. Ben oltre il semplice epitaffio, una vera eredità. È l'1.24, noi ci fermiamo, domattina alle 7 torna l'informazione. Grazie, arrivederci, buonanotte.